Sono ancora in corso le ricerche del 72enne originario di mandatoriccio nel Cosentino che risulta disperso da ieri sera al lavoro nella ricerca dell'uomo il soccorso alpino e speleologico calabrese e i carabinieri della stazione di San Giovanni in Fiore. Il 72enne insieme a tre amici si era recato in sila alla ricerca di funghi. A dare l'allarme sono stati gli amici che rientrate a casa hanno avvertito i familiari. Le operazioni alle quali partecipano anche i tecnici delle stazioni alpine di Camigliatello e Lorica si stanno concentrando soprattutto nei dintorni di Monte Pettinascura a 1689 metri d'altitudine in località fossiata al confine tra i comuni di Casali del Manco, San Giovanni in Fiore e Longobucco all'interno del Parco Nazionale della Sila. Nelle ricerche sono impegnati anche i carabinieri e i vigili del fuoco.